Il Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale di Pesaro Urbino con sede in Fano, organizza un corso per educatori e animatori rivolto a tutte le persone che hanno intenzione di impegnarsi nell'educazione dei bambini e dei più giovani attraverso lo sport. L'educazione attraverso lo sport è proprio la missione del Centro Sportivo Italiano e riteniamo che educare i bambini e i più giovani non possa essere un'attività fatta improvvisando ma ci sia bisogno di un adeguato percorso formativo. Ecco perché abbiamo organizzato un corso rivolto a tutti quelli che già non operano con noi quindi tutti quelli che sono al di fuori della nostra cerchia abituale di collaboratori che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Fano iniziando dal lunedì prossimo per la durata di 4 settimane. Questo corso di formazione sarà totalmente gratuito ed è rivolto ai maggiori di 16 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco per educare i più giovani. Questo corso si svilupperà in 4 appuntamenti, ciascuno dei quali con un tema specifico, in particolare nella prima sessione si parlerà di attività di giocoleria il secondo appuntamento sarà rivolto alla pittura e al disegno, il terzo appuntamento sarà rivolto alla musica e il quarto si incentrerà sul tema della parola e del linguaggio. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a tutti gli operatori che quindi potranno prestare il loro servizio sia nelle nostre attività sia estive che invernali oppure anche nelle parrocchie in tutti gli ambiti chiaramente dove una persona può impegnarsi in ambito educativo di impostazione cristiana perché naturalmente il centro sportivo italiano come ente di promozione sportiva si basa sul cristianesimo, sul cattolicesimo e quindi chiaramente l'impostazione cristiana è alla base di tutta la nostra attività. Ricordo che ci sono già 58 persone iscritte quindi stiamo avendo un buon successo, ricordo inoltre che il termine ultimo per iscriversi è quello di venerdì sera, ci si può iscrivere tramite una telefonata oppure un'e-mail ai contatti che trovate sulle pagine social e sul sito internet del centro sportivo italiano di Fano.